Ciao a tutti, buonasera, siamo qui in Piazza Rossetti a Genova, io sono l'idiatore di Cosmo Television e siamo qui per festeggiare il nuovo anno, il 2015 che arriverà, ma soprattutto l'idiazione e la messa in onda di Cosmo Television che riguarda tutta Genova, la Liguria, l'Italia e anche il mondo intero se vogliamo. E' una novità perché avremo la possibilità tutti quanti di dire la nostra senza censura e senza nessun obbligo. Quindi 2015, grande innovazione per Genova e per tutti i genovesi. Auguri, auguri a tutti.